Semplici provvedimenti di gestione fatti passare per legge senza il minimo di trasparenza e di criterio. All'indomani dell'infocato Consiglio regionale sulle delibere di assestamento ai partiti di opposizione che hanno ieri abbandonato polemicamente l'aula tornano sull'argomento parlando di favori a comuni che si sono mostrati generosi con il centrodestra alle elezioni di marzo. Luciano D'Amico, leader di patto per l'Abruzzo. Denunciamo che il centrodestra senza fornire nessuna spiegazione insista nell'approvare per legge dei provvedimenti di finanziamento episodici del tutto scollegati da una qualsiasi politica economica, una politica di rivisitazione del sistema sanitario, una politica sul sociale. Non c'è traccia di tutto questo, solo finanziamenti episodici del tutto ingiustificati. Non abbiamo ascoltato un solo esponente del centrodestra in grado di spiegarci l'urgenza del finanziamento del cimitero di Secinaro che si smetta di approvare per legge dei provvedimenti di gestione, dei provvedimenti con cui si finanziano singole iniziative, peraltro tutti di comuni che sono stati molto generosi elettoralmente nei confronti del centrodestra. Noi vorremmo ripristinare quelle elementari regole di trasparenza che quando bisogna finanziare attività sportive piuttosto che associative, piuttosto che comuni, piuttosto che altro, possano essere con trasparenza applicate. Noi riteniamo che la Regione debba definire gli obiettivi e stanziare le risorse, non occuparsi per legge dell'assegnazione delle risorse. Bisogna fare bandi pubblici, garantire trasparenza, garantire a tutti i comuni, a tutte le associazioni sportive, a tutte le associazioni del sociale la possibilità di partecipare e attraverso i bandi riuscire a realizzare un'allocazione ottimale delle risorse degli abruzzesi. Basta con questa arroganza con cui ci si presenta in Consiglio regionale e senza fornire spiegazioni si definiscono questi finanziamenti. Grazie. 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 Grazie.